Le energie rinnovabili in Italia contano sempre di più e si registra ora anche lo storico sorpasso avvenuto a febbraio 2012 del fotovoltaico rispetto all'eolico e quanto emerge da un rapporto dell'ufficio studio di Confartigianato che sottolinea inoltre come soltanto con l'energia prodotta dal fotovoltaico potrebbe essere soddisfatto il fabbisogno energetico delle famiglie di tutto il sud Italia. Il nostro paese nel 2010 è risultato il primo per il contributo delle rinnovabili sull'intera offerta energetica tra le 6 economie più avanzate dell'Ocse e le ripercussioni sono positive anche sul piano dell'occupazione. Le aziende del settore dal 2009 al 2012 sono infatti cresciute del 10,2% arrivando a oltre 100.000 imprese con 370.000 addetti con una crescita dell'11,9% tra il 2010 e il 2011 dato settoriale questo che Confartigianato definisce straordinario. Le energie rinnovabili, ha sostenuto il presidente Giorgio Guiarini, offrono grandi potenzialità di sviluppo alle piccole imprese sia in termini di innovazione sia per la creazione di posti di lavoro. Per questo Confartigianato si batte affinché i decreti sulle energie rinnovabili, in corso di emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente, non penalizzino i piccoli impianti.